I grandi momenti derivano da grandi opportunità e questo è quello che avrete stasera ragazzi, questo è quello che avete meritato, una partita. Se ne giocassimo 10 loro ne vincerebbero 9, ma non questa partita, non stasera, era destino che vi ritrovaste qui stasera, siete nati per diventare dei giocatori, ognuno di voi, stasera li affronteremo e riusciremo a battere, perché possiamo!